Partiamo proprio dalla solidarietà, dal fare del Veneto che anche qui, come in Rivela del Brenta, come anche a Refrontolo, non ha chiesto ma ha cominciato a prendere palle piccone e ha già subito messo a posto. Ma sì, fate bene, ricordate i volontari, i vigili del fuoco, la protezione civile, il soccorso alpino, ma anche i tanti ragazzi, giovani, minorenni che sono qui a spallare fango. E ormai è uno scenario che conosciamo, che vediamo in molte occasioni ed è anche l'occasione per ringraziarli tutti, veramente di cuore, sono questi giovani dei quali non si parla mai e penso che sia anche il caso ogni tanto di ricordare. Chi invece non si fa sentire è Roma, non ne arrivano i rimborsi, ne arrivano pochi, dicono che ci sono pochi soldi, sul raffronto non è arrivato nulla. Sì, sulla riviera del Brenta su 100 milioni ci sono andati due e qui verranno anche qui a fare i sopralluoghi e spero che si riesca a trovare la quadra con il governo, anche perché questo è un territorio che ha 9.000 frane monitorate, le frane per concezione non stanno mai ferme per cui bisogna assolutamente intervenire. Prova ne sia che ieri qui abbiamo avuto la peggio proprio con i tre morti e con questa mole paurosa di materiale che scelta dal fatto dell'antelaro, ma dall'altra è bene a ricordare che ad esempio a Peaio le opere di messa in sicurezza hanno funzionato.